Musica 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 Questo fu tolto per oltre 50 anni, l'ho ripreso io quando c'ero anche io oltre 10 anni fa Che cosa consiste? Ma tu ci sei nato qua praticamente Non ho nato, non ci sono nato perché No nel senso che 10 anni fa, a 14 anni ti facevi già Già mi occupavo di queste cose, ma vuoi perché ci sono cresciuto qua dentro? E ripeto, le pietre di questa chiesa le conosco una per una Vuoi perché ho visto dei lavori effettuati all'interno della chiesa Vuoi perché mi sono andato a documentare su tutto quello che c'è all'interno di questa chiesa E quindi ecco, posso dire che conosco le pietre nelle proprie fondazioni Lo standardo, sempre non me ne abbiano a male gli amici di Forio Ma non è una cosa inventata Bensì è un gesto che già si faceva, si presume, dalla creazione di questa manifestazione In che cosa consiste l'inchino dello standardo? È un gesto che si compie al termine della corsa dell'angelo Quando la Madonna si è ricongiunta con il figlio risorto E praticamente lo standardo rappresenta tutta la popolazione Che esprime in questo abbassarsi dello standardo Il gaudio per questa grandissima gioia della risurrezione come dicevi tu prima Lo standardo che cosa deve fare? Praticamente ad oggi con le piume Ma prima qui si faceva con dei fiori di paglia Fiori di paglia che purtroppo non ci sono più Questi fiori dovevano giungere Come si fa fuori? Uguale A terra Dovevano arrivare a terra Ma non dovevano toccare terra Dovevano solo sfiorarla Ovviamente la punta del fiore in questo caso Ad oggi le piume dello standardo Non devono toccare terra Altrimenti chi compie questo gesto Deve passare il testimone a qualcun altro Che deve poi portare avanti questa cosa Questo gesto dello standardo si fa davanti alle immagini del Cristo risorto della Madonna E poi davanti alle chiese dove transita la processione al rientro della corsa dell'angelo Non è una cosa che ho inventato io È una cosa che già c'era Tra l'altro alcuni attenti studiosi in polemica Contro questo tipo di manifestazioni e di espressioni religiose Ci ricordano che lo standardo sarebbe un simbolo pre cristiano Ma di questo non ci siamo mai scandalizzati Perché la chiesa ha ereditato parecchio del paganesimo E con grande saggezza ha inglobato e cristificato Quindi anche lo stesso culto delle statue Sappiamo bene che sono semplici statue E noi non adoriamo le statue Ma in quell'estatua richiama L'esempio di quell'estatua Esatto A proposito delle statue dicevamo del protagonista principale Che oltre a richiamare come dicevamo una verità di fede Nello specifico rappresenta anche un capolavoro di arte e di bellezza Stando a chi ultimamente ha restaurato questa immagine Perché questa immagine dovete sapere nel 1985 prese fuoco Perché prese fuoco? Perché all'uscita dell'immagine del Cristo risorto dal sepolcro Abbiamo la buona abitudine di sparare dei fumogeni All'epoca insieme ai fumogeni volavano dei palloncini ad elio Questo fumogine era da finire in un palloncino ad elio E si è venuto a creare Casamiccio E quindi l'immagine del Cristo risorto con la Pasqua tornò Che era nera Un tozzone nero E fu poi recuperato da un artista locale Che però ovviamente Ne ha deturpato un po' quella che era la struttura Questa è un'immagine Come dicevo prima Stando a chi ha restaurato ultimamente questa statua Ardita Perché? Perché vedete Il Cristo risorto ha un piede alzato Verso l'indietro Quindi come se corresse Come stesse correndo Ed è inarcato verso avanti Un'immagine questa in legno Presumibilmente datata tra la fine del XVII secolo Lui parla da fine del XVI secolo Tutto è in legna Questo Cristo risorto È stato ideato proprio dalla Congrega È stato commissionato dalla Congrega E ogni anno a Pasqua Ecco Svolge il suo compito Di dare segno vivo Della risurrezione attraverso la sua immagine Questo è l'esempio che noi abbiamo Ecco quella bellezza del Cristo risorto Con le sue movenze Con la sua luminosità Perché quello era un corpo glorioso Su quello del Cristo una volta risorto Non era un corpo umano Ma un corpo glorioso È quello che questa immagine vuole Più o meno rappresentare L'immagine che L'unica cosa che è stata purtroppo Nel corso degli anni modificata È questa nuvola La nuvola di questo Cristo risorto È venuta in secondo momento Dopo l'incendio Questa nuvola Ovviamente lo vedete È molto grande rispetto allo stile dell'immagine Ed è diversa rispetto allo stile dell'immagine Fu ripresa Inizialmente c'era Ma era molto più piccolo Basti pensare che La nuvola finiva Sul dito del piede del Cristo risorto E ovviamente non si affossava Come si affossa adesso Purtroppo negli anni 80 Quando fu recuperato Fu recuperato nel giro di nemmeno un anno Da quando prese fuoco Alla Pasqua successiva Ovviamente fu rifatta Nella migliore modo possibile E oggi grazie al restauro avvenuto nel 2019 Grazie ai contributi dei fedeli della Camino Che abbiamo riuscito Grazie a questo che abbiamo riuscito A restaurare l'immagine del Cristo risorto Lo abbiamo, diciamo così Aggiustato per quanto meglio si possa creare Un piccolo aneddoto Su come prese fuoco il Cristo risorto Perché si deve sapere che all'epoca Nessuno capì Che il Cristo stava prendendo fuoco Lo capì solo chi stava organizzando Ma la folla dei turisti All'epoca si parlava Che c'erano centinaia e centinaia di tedeschi Applaudivano e chiedevano il bis Ma non sapevano che avevamo perso Un'immagine importante del Cristo risorto E questo è un aneddoto divertente Anche sulla rappresentazione Che oggi svolgiamo qui alla Camino Insieme a questo c'è la statua dell'angelo Che anche coeva al Cristo risorto E ancora oggi corre lungo l'esterno Santa Maria Maddalena abbiamo già parlato Qui c'è la statua di San Giovanni San Giovanni è una statua attribuibile Ai fratelli Libro E è venuto in secondo momento Nell'Ottocento San Giovanni molto spaventato Perché lui alla vista Di quella Dile bende piegate nel sepolcro Crede subito alla risurrezione di Cristo E quindi come se fosse stato colpito Da un flash Capisce Ed è stasiato dalla visione Di questo grande avvenimento Che è stata la risurrezione Chissà perché San Pietro l'abbiamo dimenticato È strano Perché San Pietro ha premesso Le statue della corsa dell'angelo qui Ovviamente sono nate Per quell'ultima parte San Giovanni doveva accompagnare solamente la Madonna Per come si fa fuori ovviamente San Giovanni ha accompagnato la Madonna Dal 79 è stato incapsulato come personaggio attivo Della rappresentazione E quindi ovviamente San Giovanni ha la sua parte E siamo giunti alla destinataria dell'annuncio La Madonna Questa è l'immagine La Madonna del Rosario Questa immagine è qui Dovete sapere che ha le mani Il volto del bambino e i piedi in legno Il corpo è in teloplastica Perché negli anni 60 Purtroppo venne la moda maledetta Di togliere i vestiti dalle statue delle Madonna E che cosa è successo? Che questa immagine della Madonna era vestita I vestiti antichi purtroppo già non c'erano Fu recuperato per quanto meglio si poteva recuperare Fu fatto da sarte locali il vestito della Madonna E ovviamente aveva un corpo a manichino Quindi si presume che non era così Ma ben si aveva il vestito Un vestito bianco con il mantello rossa E il bambino che manteneva sempre nella mano Questa qui viene usata due volte all'anno Un giorno di Pasqua Senza il bambino per la risurrezione Gli viene tolta la corona In primo momento gli viene messo il velo in testa Nel momento in cui perde il velo Viene rimessa la corona in testa E poi prende parte alla processione Al rientro Così come la vediamo E poi viene usata nel mese di ottobre Nel mese di ottobre qua Un'altra devozione particolare che abbiamo Ereditata dalla chiesa del Rosario Che ci vede impegnati Nello svolgimento di tutto il mese di Mariano Nel conservare la devozione al Santo Rosario Questo è l'utilizzo di questa Madonna Perciò due volte all'anno A Pasqua viene chiamata simpaticamente la Madonna di Pasqua Però quella è la Madonna del Rosario E viene utilizzata nel mese di ottobre Grazie a tutti